Ciao, mi chiamo Azzura Ruggero, ho 18 anni e vivo a Bracciano in provincia di Roma. So all'ultimo anno del liceo linguistico e le lingue che studio so all'inglese e al francese e al tedesco. Le lingue mi piacciono molto, però la mia più grande passione nella vita è la recitazione. La studio da circa 4 anni e penso che mi piaccia così tanto perché penso che non ci sia nulla del più bello di riuscire a vivere tante vite e di riuscire a fare esperienza di tanti sentimenti e emozioni diverse. Mi piace molto anche ballà, mi piace molto la musica in generale e quando ero piccolina ho studiato per molti anni danza classica e adesso me la cavo abbastanza bene con la danza contemporanea. Sto con l'agenzia La Cantena Management e questi sono i miei due profili. Penso di aver detto tutto, ciao!